musica 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 Alla ragazzi e benvenuti in questo nuovo video io sono XTrader e oggi siamo tornati su MC Creator e andremo a vedere come creare un cibo per prima cosa ci serve una texture quindi andiamo in risorse e per comodità la creeremo da un template bene, ho creato qualcosa di accettabile facciamo salva texture, scegliamo item e mettiamo il nome della texture poi torniamo su workspace e facciamo creare un nuovo elemento food, mettiamo il nome dell'elemento e poi andiamo appunto a scegliere la texture che abbiamo appena creato, parte successiva mettiamo il nome di questo cibo al tema di minecraft, chiamiamolo cibo e scegliamo in quale tab del creative metterlo, la metteremo in quella del cibo scegliamo la grandezza dello stack di questo cibo, io metto 32 poi possiamo scegliere il suo valore nutrizionale, cioè quanti mezzi cosciotti riempirà in descrizione vi lascio una tabella con tutti quanti i valori nutrizionali dei cibi di minecraft 4 mezzi cosciotti significa che riempirà 2 cosciotti interi noi mettiamo, visto che i cosciotti di minecraft se non vado errato sono 8 noi mettiamo 16 e in teoria dovrebbe riempirli tutti in un corpo solo con questo spunto possiamo scegliere se i cani possono mangiarlo o meno qua possiamo scegliere se possiamo mangiarla in ogni caso cioè anche quando la nostra fame è piena e ciò è utile nel caso per esempio mettiamo che da un qualche effetto di una pozione oppure se succede qualcosa quando lo mangiamo noi mettiamo di sì e poi possiamo scegliere se da un qualche effetto di pozione purtroppo possiamo scegliere solo un effetto noi mettiamo hunger così a caso fame poi dobbiamo scegliere la velocità con cui mangiamo è la velocità in tick cioè quanti tick ci metteremo 32 e vi ricordo che 20 tick corrispondono a un secondo quindi noi mettiamo 20 ovviamente la velocità senza il lag che poi il lag è sempre comunque rallenta e poi possiamo scegliere l'animazione cioè se lo mangiamo o lo beviamo nel caso vogliamo fare la bevanda noi mettiamo drink così a caso facciamo next page qua ci sono le procedure che spiegherò in tutorial apposito e facciamo save mode element adesso aspettiamo che finisca di ricompilare e apriamo minecraft bene eccoci adesso semplicemente andiamo a prendere il nostro cibo eccolo qua cibo e andiamo in survival quindi adesso diamoci un po' di fame e in teoria adesso con un colpo solo dovremmo ecco no per esempio qui avevo sbagliato perché i cosciotti di minecraft non sono 8 ma sono 10 comunque come vedete in un colpo solo ne ha recuperati 8 però ci ha dato fame fame normale di livello 1 per mezzo minuto quindi purtroppo non possiamo scegliere per quanto tempo e di chi livello ci dà la pozione quantomeno non da lì attraverso le procedure immagino di sì però comunque se non volete complicarvi la vita potete fare in questo modo che va più che bene abbiamo creato il nostro cibo quindi bene il video è finito qui spero che la visione vi sia piaciuta se avete richieste consigli o problemi non esitate a scrivere nei commenti e quindi commentate iscrivetevi lasciate possibilmente un like e XTrader bird a Ciao